salve a tutti ragazzi e bentornati in questo video andremo a vedere dove si trovano tutti e 15 gli archi che possiamo raccogliere rincorrendo il platino quindi tutti quelli che riusciamo a trovare nei forzieri come ricompensa alle missioni alle missioni secondarie buona visione alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.